Nel momento in cui sto registrando il nuovo coronavirus ha già causato la morte di 80 persone e il numero molto probabilmente aumenterà nei prossimi giorni. Prima però di andare in panico e correre per strada urlando oppure vendere tutti i vostri titoli asiatici cerchiamo un attimo di capire cosa sta davvero succedendo in questo momento. E visto che questo è un canale di finanza vediamo anche di capire cosa possiamo aspettarci dai mercati finanziari, quale risposta potrebbe esserci e soprattutto se potrebbero esserci opportunità interessanti. E di tutto questo ne parliamo dopo la sigla. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Pietro e vediamo di capirci qualcosa su questo virus. Tutti ne parlano, tutti dicono la loro... Buh! Prima di iniziare due cose. Numero uno, voi state guardando questo video il 27 gennaio ma sapete che ogni giorno ci sono nuove notizie, nuovi dati che solitamente smentiscono quelli precedenti e quindi insomma prendete con le pinze questo video se lo state guardando a distanza di un po' di tempo. Numero due, non sono un biologo, un chimico, un medico, non sono nulla di tutto ciò. Le mie competenze si limitano al fatto di aver fatto uno scientifico, quindi capiamoci e non mi spingerò in affermazioni che vanno oltre le mie competenze. Bene, ma prima di passare ai mercati finanziari cerchiamo di capire con cosa abbiamo a che fare, ovvero con un coronavirus. Perché ho detto un? Beh, perché coronavirus è una famiglia di virus a RNA, chiamata così proprio per la forma che ricorda più o meno quella di una corona vista dall'alto. Di questa famiglia fanno parte anche i virus che hanno portato alle malattie della SARS e della MERS, che alcuni ricorderanno sono malattie che hanno causato tantissimi morti negli ultimi circa 20 anni. Ed ecco spiegato il motivo per cui giustamente la gente si sta preoccupando. Questo nuovo coronavirus però non ha ancora un nome e gli scienziati lo stanno chiamando semplicemente nuovo coronavirus 2019 o NCOV-19. I sintomi di base di questo nuovo virus sono in realtà quelli di una comunissima influenza, quindi febbre, raffreddore, naso che cola, ci si sente deboli. Però nei casi più gravi, dove ci sono complicazioni, si può arrivare a difficoltà respiratorie, si può avere addirittura un'insufficienza renale, grave polmonite e, nel peggiore dei casi, morte. Ma ripercorriamo un secondo la storia di questo virus, ovvero cos'è successo. Pare che questo nuovo virus sia emerso per la prima volta nella città di Wuhan, in particolare nel mercato del pesce di Wanan. In questo mercato, oltre al pesce, vengono venduti anche animali vivi, che sono appunto spesso veicolo di malattie. A fine dicembre è stata riportata una ventina di casi di polmonite acuta con provenienza sconosciuta all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che il 9 gennaio, quindi una settimana dopo, ha effettivamente dichiarato la presenza di questo nuovo virus. Le persone provenienti da Wuhan però non lo sapevano e quindi hanno viaggiato per il mondo diffondendo la malattia. Successivamente, infatti, ci sono stati casi in Thailandia, Corea del Sud, Giappone e anche negli Stati Uniti il 21 gennaio, che è fondamentalmente quando se ne è iniziato a parlare. Ad oggi, purtroppo, non si parla più di una ventina di casi, sono un po' di più. E qui voglio collegarmi anche alla SARS e alla MERS per capire se davvero sono situazioni simili. La MERS, sigla che sta per Sindrome Respiratoria Medio-Orientale, è apparsa la prima volta nel 2012 in Arabia Saudita. E dal 2012 a oggi ci sono stati circa 2.500 casi confermati, di cui 850 morti. 850. Praticamente è una mortalità di circa il 30%, che è qualcosa di pazzesco, veramente unico. La MERS sembra che sia arrivata la prima volta dai cammelli. E sì, dico la prima volta perché la MERS ha colpito più volte. Una decina di volte. In questo caso, quindi, la malattia era sì ad altissima mortalità, ma non aveva chissà quale potere di diffondersi, proprio perché nonostante le 10 epidemie ci sono stati solo, e chiaramente va preso con le pinze questo solo, 2.500 casi. Discorso diverso per la SARS, ovvero Sindrome Respiratoria Acuta Grave, apparsa in Cina alla fine del 2002. La SARS ha avuto però una sola epidemia importante, e non 10, e i casi confermati sono stati 8.000, con circa 800 morti, quindi una mortalità del 10%. Quindi sì, una malattia meno grave della MERS, però con potere di trasmissione decisamente più alto. Da quello che sappiamo adesso, il virus attuale sembra lontano sia dalla SARS e lontanissimo dalla MERS, infatti non sembra centrare nulla con quest'ultima. Ad oggi, nel momento in cui sto registrando, ci sono stati 2.800 casi confermati, con 80 morti, una mortalità del 3%, che quindi la rende molto meno grave sia della SARS e della MERS. I dati sono ovviamente provvisorici, ci sono anche persone ricoverate, e come sappiamo, quando abbiamo a che fare con dati ufficiali cinesi, beh, bisogna essere abbastanza cauti, perché la Cina ha già dimostrato in passato di occultare dati o di alterarli, quindi possiamo facilmente aspettarci che questo dato sia in realtà sottodimensionato. Quindi, da un certo punto di vista, non c'è da preoccuparsi così tanto, perché il tasso di mortalità è decisamente più basso e facilmente controllabile. Quello che però sta destando molte preoccupazioni è la facilità con cui si trasmette. Infatti, questa malattia si trasmette anche una volta che i sintomi non si sono presentati, e i sintomi possono arrivare a presentarsi anche una decina di giorni dopo, quindi immaginate di avere questa malattia e voi non sapete assolutamente di averla, andate in giro e contagiate chiunque. Questo, al momento, è il problema principale del nuovo coronavirus. Sembra quindi naturale aspettarsi che il numero di casi confermati crescerà, e anche di molto. Al momento non c'è ancora una cura, si può chiaramente tenere sotto controllo con farmaci e con dei sintomatici, per evitare che le condizioni si aggravino, ma al momento non c'è cura. In futuro forse si potrebbe arrivare ad avere un vaccino, ma tenete conto che dopo circa 20 anni non c'è ancora un vaccino per la SARS, e il motivo in realtà è molto semplice. Non conveniva. Infatti, il vaccino per la SARS era già a buon punto, si stava già procedendo bene con i test, ma è successo che a un certo punto sono riusciti a tenere a bada la SARS, e quindi continuare a produrre il vaccino non aveva più senso in termini economici. In altre parole, la SARS è stata sconfitta semplicemente fermando il contagio, e quindi non è stata sconfitta a livello farmacologico, e boh, la stessa cosa potrebbe accadere per questo nuovo coronavirus, non si sa, ma tenete a mente questa cosa perché ci servirà tra poco. Arriviamo infatti all'aspetto che interessa su questo canale, ovvero i mercati, la finanza, cosa sta succedendo al mondo? Ci sono alcune cose interessanti che possiamo dire. Iniziamo dai titoli legati direttamente al coronavirus. Titoli che, come potete immaginare, negli ultimi giorni sono andati molto bene. Tra l'altro su Instagram vi avevo segnalato alcuni di questi titoli in una storia un po' di giorni fa, e alcuni in quella giornata hanno fatto il 20-30%, quindi congratulazioni a chi è riuscito a sfruttare bene quell'occasione. In ogni caso, all'interno di questo paniere di aziende, abbiamo aziende che stanno lavorando a un vaccino, a dei farmaci per contenere il virus, e poi ci sono aziende che invece fanno tutt'altro come produrre oggetti usa e getta per disinfettare o per proteggersi come mascherine, guanti, occhiali, cose di questo tipo. Attenzione però perché queste sono aziende che beneficeranno solo nel breve periodo, quindi, beh, quello che stiamo vedendo adesso sui mercati è tutta speculazione. E questo non significa che non si possa operare, che non si possa fare nulla, semplicemente non sono aziende che ha senso pensare nel lungo termine. L'epidemia di questo N-coronavirus non durerà per sempre, ovviamente, sarà, si spera, qualcosa di passeggero, poi ovviamente nessuno può saperlo, ma una volta che una di queste aziende ha creato un vaccino, beh, tutte le altre fondamentalmente ritorneranno ai livelli precedenti. E una volta che l'epidemia sarà contenuta, tutte le aziende che producono mascherine o guanti torneranno anche queste a livelli precedenti, quindi, beh, non si può fare un ragionamento più lungo del breve termine. Comunque non sto a leggervi tutti i nomi delle aziende, ve le lascio qui a schermo con anche i relativi ticker, fatevi uno screen, mettete in pausa il video, fate quello che volete, però non posso chiaramente entrare nel dettaglio, perché il video durerebbe 6.000 anni, quindi fatevi un bello screen. Poi vediamo alcuni settori che, a causa dell'epidemia del nuovo coronavirus, stanno soffrendo molto e che quindi potrebbero portare alcuni titoli verso dei livelli di prezzo interessanti. Le compagnie aeree, aziende che operano nel settore dei viaggi, produttori di aerei, sono tutti scesi di qualche punto, chi più chi meno. Aziende comunque importanti del calibro di Boeing, Booking, Expedia, Delta, American Airlines, hanno tutte accusato il colpo. Tra queste aziende, tra l'altro, c'è Carnival Corporation, che è il più grande operatore di viaggi in crociera al mondo, che, beh, in realtà a livello fondamentale ha poco a che vedere con il virus, perché semplicemente i viaggi che fa in Asia sono veramente pochi e infatti, molto probabilmente, questo è un titolo che sto monitorando da un po' di tempo e mi piace, dicevo, molto probabilmente ne parlerò nel video dei titoli di febbraio. Altro titolo interessante, ma non per acquistarlo, semplicemente per farvi capire un concetto, è Wynn Resorts. Questa è un'azienda che gestisce nei casinò principalmente nell'area di Macao e alcuni potrebbero pensare che il titolo, essendo sceso dell'11% nell'ultima settimana, possa essere ora interessante, ma fate molta attenzione. Infatti, proprio per l'epidemia del nuovo virus, questo titolo è diventato effettivamente più rischioso, proprio a livello fondamentale. Il rischio che alcuni casi no vengano chiusi c'è, è concreto, quindi in questo caso le vendite che hanno portato al crollo sono, secondo me, giustificate. Ogni volta che vedete un crollo di questo tipo, che sia per un virus o in futuro per qualsiasi altra occasione, chiedetevi, a livello fondamentale cambia qualcosa? Se la risposta è sì, beh, potrebbe essere giustificato. È sceso di qualche punto anche il settore del lusso, ma non voglio soffermarmici troppo, perché secondo me il lusso in questo momento è a dei livelli assolutamente alti e quindi, per diventare interessante, almeno per me dovrebbe scendere tanto di più. Alcuni titoli cinesi poi sono scesi parecchio e anche social network o siti che in realtà hanno poco a che vedere direttamente con il virus come Baidu, Weibo, Momo, sono scesi veramente tanto. Dai 6 ai 10 punti percentuali nell'ultima settimana e alcuni di questi titoli, sì, potrebbero risentire nel brevissimo termine di un calo negli introiti pubblicitari, ma parliamo veramente di poca roba. Tencent, che come sapete invece è sulla mia watchlist da un bel po' di tempo, è scesa purtroppo solo del 3% e quindi ancora non è a dei livelli interessanti, ma si sta piano piano avvicinando. Vi trovo aggiornati. Andando sugli indici, la cosa si fa invece interessante, perché l'Hangsang Index, che è l'indice di Hong Kong, è sceso del 4% nell'ultima settimana, che è tanto per un indice. Ora sembra aver trovato un supporto tecnico, ma ogni giorno si hanno notizie di nuovi morti, nuovi contagi, quindi dubito che questo supporto reggerà, ma chiaramente fate le vostre valutazioni. Stesso discorso per l'indice di Shanghai, che ha perso un po' meno del 3%. Se state quindi pensando di aumentare la vostra quota sugli emergenti o anche solamente sulla Cina, beh, tra un po' potrebbe essere il momento giusto, almeno secondo me, e se le cose non prendono una piega assolutamente drammatica e apocalittica. Io, per esempio, se le borse cinesi dovessero scendere ancora di un 6-7%, molto probabilmente incrementerò la mia posizione su questi mercati. E oltre all'acquisto di singoli titoli, penso di utilizzare anche degli ETF, che a questo punto diventerebbero molto interessanti, come questo, che state vedendo adesso a schermo, che investe in aziende cinesi a grande e a media capitalizzazione, oppure questo, che è fondamentalmente uguale, ma distribuisce dividendi anziché trattenerli. Se foste interessati, vi ricordo che è ancora valida la promozione di DeGiro, che è il broker che uso io per acquistare azioni d'ETF, che fino al 3 febbraio, mi pare, vi regala fino a 1000 euro di commissioni. Quindi vi consiglio vivamente di dargli un'occhiata. Vi lascio ovviamente tutti i link qua sotto in descrizione, con anche la recensione, così potete farvi un'idea prima di fare qualsiasi scelta avventata. Arriviamo però a una frase un po' conclusiva di questo video, ma cosa ci si può aspettare davvero dai mercati? Beh, chiaramente nessuno lo sa. Le probabilità che questo virus diventi qualcosa di globale, che stermini l'intera popolazione umana, sono abbastanza basse. Come ho detto all'inizio, anche in base ai dati che stiamo ricevendo negli ultimi giorni, sembra trasmettersi decisamente più velocemente della SARS, però la mortalità è comunque molto più bassa e è più facile tenerla sotto controllo oggi che non vent'anni fa. Quindi ovviamente speriamo che la situazione si risolva e speriamo anche che ci si possa in qualche modo guadagnare dai mercati con delle opportunità. Per questo video è veramente tutto, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like qua sotto, noi ci vediamo alla prossima.